Eh ma adesso lo facciamo in diretta così anche dopo mostro su YouTube E vediamo come si gonfia Ti rivedere Oh boh no, non lo corre Come si gonfia, come si gonfia? Come si gonfia? Ecco vediamo se funziona E' sporchi, la suonca qual è il tuo. Oh non penso È rumoso il motor? Eh si fa fastidio ma metterò su YouTube comunque Eccolo Eccolo, la sposa è morbida, 40 centili, 20 euro così, in genere 60 euro, 40 centili, pensavo che si sembra meno struppeggiata, eccola una signora di testa in distanza, tutto vedranno. Che cosa è strana, ecco qua un boxing di questa, la foca, tre bambini, un cuscino, è un cuscino, infatti si è morbidosa, bella, è un peluche sottovuoto, come si dice al sud, un peluche sottovuoto, carino, non me l'aspettavo tovarla tutto sottovuoto, è bella, morbida, soffice, è carino, bello. Questo è un regalo per mia sorella. Ciao, 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 ciao.